E' entrato di notte nel garage dell'abitazione della ex moglie, ha staccato la luce dell'appartamento, ha forzato la porta d'ingresso con un cacciavite ed ha aggredito con un tondino di ferro la donna e il suo nuovo compagno. E' accaduto qualche giorno fa a Cantiano, dove ieri i carabinieri hanno arrestato un 45enne per atti persecutori, lesioni personali e violazione di domicilio, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Urbino. Le vittime, picchiate a sangue e soccorse subito dai sanitari, hanno riportato ferite e lacerazioni guaribili in 30 giorni. Nemmeno la presenza dei fili minori all'interno dell'abitazione ha fermato l'uomo e la sua lucida violenza. Assieme ai soccorsi sono arrivati anche i carabinieri che hanno raccolto la deposizione dei due malcapitati, districandosi tra su pellettili e mobili rotti e schizzi di sangue ovunque. Solo la disperata reazione dell'uomo e della donna ha evitato che si consumasse una tragedia. I militari poi si sono messi subito alla ricerca dell'aggressore, che nel frattempo però aveva fatto perdere le sue tracce. La coppia si era sposata nel 2005 e fin da subito l'uomo, secondo quanto riferito agli inquirenti, aveva mostrato subito la sua indole violenta, ma la donna aveva sempre giustificato questo atteggiamento legandolo allo stato depressivo del marito, che però aveva sempre avuto un'indole aggressiva tanto da aver collezionato in gioventù diverse denunce e querele per aggressioni e atti ostili. Dal matrimonio erano nati due figli, ma nemmeno la loro presenza aveva limitato le violenze dell'uomo, tanto che nel 2016 la moglie, esausta, aveva deciso di separarsi. Dopo giorni di ricerche, nella giornata di ieri i militari, dopo averlo rintracciato nella sua abitazione di Cagli, hanno eseguito il mandato del Tribunale di Urbino e portato il 45enne violento nel carcere di Villa Fastigi.